La casa nella brateria è un discorso che mi piace, così come mi piace anche l'essere vivente che è fatto verde, verde e blu, lo più caffonesi, che è l'essere vivente che è fatto verde, verde e blu, lo più caffonesi. La casa nella brateria è un discorso che mi piace, così come mi piace anche tu, e poi quando voli sei contento. La casa nella brateria è un discorso che mi piace, così come mi piace anche l'essere vivente che è fatto verde, verde e blu, lo più caffonesi.